Ora e sei! Martino, ma questa cosa è l'assicurazione alla Rinaldi, come la mettiamo? Perché non parla con noi? Perché? Non parlo, se mi gira con un po' chiama i carabinieri. Chiama i carabinieri, se vuole. Perché non parla con noi? Stampa come gli altri. E perché non vuole parlare con noi? Almeno il motivo. Sto facendo una domanda, sono un giornalista. Scusi, una semplice domanda, se vuole do il tessere vino. Vorrei tornare a casa? Sì. E allora va da casa? Sì. Vorrei tornare a casa? Sì. E allora va da casa? Sì. Vorrei tornare a casa? Sì. E allora va da casa? Sì. E allora va da casa? Sì. E allora va da casa? Sì. mi liberi qui di me non lo faccio la fa finita la fa finita ti riprendi no non mi riferisco un cazzo che ha il luogo pubblico lei non mi riprende lei non mi riprende lei è una lista di miei coglioni vuoi vedere il testo lì no? vai anche tu complimenti Vai vai! Noi non ho capito! Noi non ho capito! Noi non ho capito! Noi non ho capito! Non ho capito!